Ti volevo chiedere, in partite avete innestato la marcia veloce, che è successo? In queste partite? In queste partite? Ma niente di che, semplicemente siamo sicuramente consapevoli della nostra forza, è normale, andando avanti si ingranano magari meglio i meccanismi, quindi il lavoro settimanale riesce sempre a dare di più i suoi frutti. Nel stesso periodo, dopo la vittoria con Lentella, 3-4 vittorie, 11 gol segnati, 2 soltanto incassati. Quindi, quello da reticap che avevate avuto, pare che sia scomparso, a che è dovuto? Ma, sinceramente non mi preoccupavo neanche prima, perché molti dei gol che abbiamo subito, li abbiamo subiti su palla inattiva, non tanto di reparto difensivo, quindi era soltanto il livello di attenzione che magari si è alzato. Sono stati dei campanelli d'allarme e quindi ha fatto sì che riuscissimo a subire meno gol nelle ultime partite. Ecco, allora, aggiusto un po' la domanda di Franco, volevo chiederti questo. Se la differenza fra quel 4-3 e poi gli 11 gol fatti e due subiti è dipesa solo da una questione di attenzione o avete lavorato anche dal punto di vista tattico in maniera un po' diversa? Sì, è vero qualche gol su palla inattiva, però è vero per esempio il tre pari di Allov e la sua azione, quindi li avete presi un po' in un modo e un po' in un altro. Sì, sì, parlo da inizio campionato, che secondo me erano più quelli di palla inattiva che quelli a livello di azione. No, ci siamo allenati come sempre, semplicemente poi c'era il periodo che il primo tiro in porta prendevi gol e magari adesso sabato il primo tiro in porta Bardi ha fatto una gran parata. Quindi dipende, ci sono anche vari momenti della stagione, poi noi tutti gli allenamenti ci alleniamo sempre con il mister sulla fase difensiva, quindi non è cambiato nulla. Semplicemente ci sono momenti in cui, come ho detto, il primo tiro prendi gol e altri in cui magari ti fa la parata o tirano fuori oppure concedi meno, però sicuramente più alta l'attenzione, quello sicuro, perché comunque avevi preso tanti gol nelle partite precedenti, quindi dovevi alzare il livello di attenzione, ma di tutta la squadra, non solo del reparto difensivo, quanto magari c'è più sacrificio da parte degli attaccanti, magari i centrocampisti fanno un movimento, magari stanno più davanti alla difesa, alla protezione, piuttosto che magari andare in giro. Semplicemente questo, non è che ci sia... Senti, se vuoi puoi anche non rispondere. La forza del Frosinone è sicuramente il gruppo, però poi se andiamo a vedere nei dettagli, Ariaudo esce all'Empoli sul 3-1, il Frosinone prende due gol in mezz'ora, la partita dopo col Cesena ne prende tre. Se ci sono dei giocatori di quale il Frosinone in questo momento non può fare a meno? Sicuramente sappiamo che c'è la forza della squadra e del gruppo, e lo vediamo tutti gli allenamenti, perché è grazie anche a chi gioca meno che la squadra riesce ad allenarsi bene, e soprattutto quando vengono chiamati in causa rispondono sempre positivamente. Possiamo vedere anche i nuovi arrivi, come Cipsa ha fatto due o tre grandi partite. Vuol dire che è entrato nel gruppo, ha trovato un gruppo comunque coeso, un gruppo che rema tutte dalla stessa parte e vogliono tutti lo stesso obiettivo. Quindi diciamo che la forza è quella del gruppo. Ma non hai risposto? Ma riguardo ai giocatori... No, ai giocatori, se è un caso che a Empoli in mezz'ora prendi due gol e col Cesena tre, perché non c'è Ariaudo al centro della difesa, e poi il Frosinone ne prende di meno, insomma. Non lo so, non lo so. Nel senso che ti posso dire che ci sono sicuramente, magari quando per esempio sono io, magari imposto la difesa in un determinato modo, secondo le direttive del mister. Magari gioca un altro al mio posto, gli equilibri magari non sono quelli di tutte le partite, perché giocando più partite rispetto ad altri, gli equilibri sono diversi quando cambi i giocatori, è normale. Quindi secondo me è semplicemente quello, non è chi è più forte, chi è meno forte, chi è più scarso o meno. Va bene, te la sei capata bene. Grazie. Senti, sabato a Bari, ti preoccupa il fatto che una squadra forte come il Bari si presenta a questa partita a reduci da due sconfitte, tra l'altro pesanti, sette gol subiti e uno fatto, oppure magari iniziando la partita con lo spirito giusto e magari mettendolo subito alla vostra parte, quello che potrebbe essere l'aiuto del loro magnifico pubblico, magari diventa un problema invece per loro. Sicuramente il Bari, le carte in regola, secondo me a livello di singoli, ti posso dire che forse è la più forte da Serie B, a livello di singoli. Noi andremo lì, sicuramente ci sarà un clima ostico, ma penso che se incominciamo a fare la nostra partita bisogna far sì che loro vada in difficoltà, perché sicuramente sappiamo che è un pubblico che li aiuta nel momento di quando vanno bene, ma se non vanno bene magari incominciano a, non dico a andare contro, però incominciano a fischiare, quindi noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita senza essere influenzati dal pubblico oppure dallo stadio, semplicemente fare quello che sappiamo fare come abbiamo dimostrato nell'ultima partita. Senti, rispetto allo scorso anno, giocate sempre a tre in difesa, ma giocate in maniera diversa. Volevo chiederti un pochino di focalizzare queste differenze, come vi trovate, se per voi è uguale oppure se pensi che in questa stagione questo modo di giocare sia più redditizio in funzione poi delle caratteristiche del campionato di Serie B. e in particolare poi un'altra domanda, cosa l'ingresso di Cipsa dà di differente in funzione di copertura della difesa? Allora, riguardo alla linea difensiva, ma sicuramente ci stanno trovando bene con la linea tre e che poi alla fine a pescare come se avessimo, col pescare come se avessimo giocato a quattro perché mandavamo i terzi, li mandavamo sull'esterno e alla fine il quinto opposto faceva chiudere la linea quattro con i due centrali. Quindi ci stiamo trovando bene, è normale, bisogna collaudarla però sta portando i suoi frutti e ci troviamo molto bene. Riguardo a Cipsa penso che sia un ottimo elemento che sicuramente ci ha rinforzato la rosa e poi è molto forte fisicamente, quindi recupera molti palloni e secondo me una delle sue forze è giocar semplice cioè non inventarsi, fare cose, conoscere i propri limiti sapere quali sono i punti di forza che poi è quello di qualsiasi giocatore però Cipsa è una persona intelligente li sa e sa come metterli sui punti di forza in campo. Scusa, possiamo dire che sotto un profilo psicologico e di gestione questo nuovo modo di interpretare la difesa 3 anche con questi correttivi che tu giustamente hai sottolineato vi dà maggiore forza oppure sbagliato? Poi dipende anche da come giocare l'avversario per esempio il Pescara sapevamo che usavano molto le catene di destra e di sinistra quindi facevamo apposta ad alzare il quinto di parte e portare il terzo quasi come terzino quindi sì, per coprire bene gli sterni è normale che una squadra che gioca più interna nella zona centrale del campo non fai allargare i centrali quindi in base un po' a contro che giochi ti muovi in difesa però ci stiamo tornando bene Ciao Lorenzo Empoli o Palermo e se nella corsa promozione quale squadra temi di più e se la consideri ormai una lotta a tre oppure credi che possano rientrare altre squadre visto che mancano ancora 18 partite Sì, ci sono in ballo ancora troppi punti se non sbaglio 54 punti quindi ci sono in ballo troppi punti ci sono squadre forti come può essere appunto il Bari il Parma, la Cremonese è pieno di... lo stesso Pescara comunque è venuto qua ha fatto la sua partita al primo tempo noi abbiamo sofferto e poi il secondo tempo c'è stata un'altra partita quindi penso che non sia una corsa a tre sicuramente ultimamente queste tre squadre stanno dimostrando il loro valore però penso che sarà aperto fino alla fine del campionato Però delle due chi vorresti eliminare? Chi temi di più tra questo? Ma sono tutte due belle squadre che non ce n'è penso una più forte dell'altra Cioè adesso l'Empoli sta andando molto bene il periodo precedente andava molto bene il Palermo quindi speriamo che si alternino così non è che vadano tutte e due forti così fino alla fine Cosa dovete fare voi per stare lì in classifica e anche per ottenere un risultato positivo a Pari? E cosa invece non deve fare il Frosinone? Dobbiamo secondo me avere l'umiltà di pensare partita per partita non accontentarci mai di quello che abbiamo fatto non guardare il passato semplicemente guardare il presente e vivere partita per partita e poi basta secondo me le cose vengono da sé nel senso se riesci a essere concentrato e guardare il presente senza pensare al futuro al passato di tanto non serve a niente questa è la chiave Hai fatto in carriera 6 gol 5 a Frosinone 4 a 1 quest'anno l'area di Frosinone ti porta bene? Sì è prolifica Porta bene Cosa temi di più della formazione di Grosso? Le individualità perché sono ottimi giocatori hanno giocatori che sono stati anche parecchi anni in Serie A quindi secondo me è una squadra tosta da affrontare però penso che noi con il gruppo e con le individualità nostre possiamo fare una gran partita Ok, grazie